Ancora complimenti a mister Piccioni, mister era un po' che non vedevo la tua squadra, devo dire che questa è una vittoria di maturità, si vede insomma la crescita di questo gruppo, meritate io credo ampiamente la posizione in classifica. Ma guarda, oggi era una partita che temevo tantissimo, anche perché l'avevo vista i mercoledì in Coppa e comunque mi avevano fatto un'ottima impressione. Poi è normale che nel momento in cui non vengono i risultati, nonostante secondo me il Morrodoro come organico, un organico di tutto rispetto per la categoria, hanno delle difficoltà. Noi siamo stati bravi ad approfittare di queste difficoltà che hanno avuto e una volta andati in vantaggio siamo stati altrettanto bravi a sfruttare l'occasione del 2-0 e penso che nei 90 minuti abbiamo meritato di vincere. Però, ripeto, era una partita difficile e faccio i complimenti alla mia squadra perché veramente oggi è una partita per come era importante che non vale i semplici tre punti ma molti molti di più.